Con i suoi circa 100.000 ingressi all'anno, il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Pescara è tra i cinque più grandi d'Italia. Insieme a Rianimazione, Cardiologia, Stroke Unit 118, il pronto soccorso è anche uno dei cinque reparti compresi nel Deo dell'Asla di Pescara, il Dipartimento di Emergenza Urgenza, che del 1 maggio è affidato alla direzione del dottor Leonardo Paloscia, già responsabile della cardiologia dell'UTIC, subentrato dopo il pensionamento del professor Alberto Albani, che per anni è stato anche direttore del pronto soccorso. Attualmente, in attesa che si espleti il concorso per l'individuazione del nuovo primario, il pronto soccorso è affidato alla direzione del dottor Antonino Gabriele, un ruolo certamente non semplice da ricoprire, sia per la carenza di personale sanitario che per la gran mole di lavoro legata al congestionamento del reparto di frontiera dell'ospedale pescarese, che d'estate, con l'aumento della popolazione per l'afflusso dei turisti nei comuni del litorale, si ritrova ad acuire le sue problematiche. E di questo abbiamo parlato proprio con il dottor Paloscia. Intanto non si può misconoscere tutta l'attività che ha svolto il dottor Albani fino ad oggi, fino a pochi giorni fa. Si è speso tantissimo per cercare di risolvere questi problemi cronici, queste croniche criticità che il pronto soccorso di Pescara ha legato a un numero di accessi veramente molto elevato. Certo, cerchiamo di prepararci continuando il lavoro che Alberto Albani ha iniziato in maniera egregia, con i colleghi del pronto soccorso. Bisogna aggiustare il tiro sui percorsi che i pazienti fanno una volta giunti in pronto soccorso, nel tentativo di ridurre queste estenuanti attese. E per questo abbiamo bisogno della collaborazione però di tutto l'ospedale. Cioè tutti i reparti dell'ospedale devono capire che senza il loro contributo, il pronto soccorso diventa veramente un imbuto. Questa è una mission difficilissima. Dura da tanti anni, il dottor Albani ha lavorato tantissimo su questo, come tutti i colleghi del pronto soccorso, soprattutto durante il periodo Covid. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, anche dei medici di famiglia. Perché forse non è un caso che il sabato e la domenica c'è un sovraffollamento incredibile in pronto soccorso. La prima cosa che mi hanno chiesto i colleghi del pronto soccorso è proprio cercare di facilitare il deflusso dei malati che restano in attesa in pronto soccorso nel percorso del ricovero verso altre parti. Ma purtroppo le altre parti sono pieni. E poi un altro problema, che è quello ovviamente legato alla carenza di personale in pronto soccorso, come si può risolvere questa problematica? Intanto è già partito l'iter per il concorso per il direttore medico del pronto soccorso. Sulla carenza di personale è un problema già cronico. Dobbiamo cercare di costruire un'immagine in cui il pronto soccorso sia un reparto appetibile, fra virgolette, come gli altri reparti. Per fare questo ci vuole un lavoro non da poco, che mi auguro di poter fare, continuando quello che ha già messo in piedi il dottor Albani, con il nuovo collega che arriverà in pronto soccorso.